Sì, ho fatto una storia di ripresa, ho fatto un po' di postato, però sto bene, ho fatto un po' di giusto, quindi... Stiamo sempre a prendere 100% di rapporto in fisica, ma comunque stiamo tornando con la squadra, stiamo un po' da fuori, ho visto che vogliamo portare tutte le partite nel modo giusto, e spero che non fatti sempre le basile che devono fare semplice del quad, quindi per lo spettamento per tutto è giusto e altrimenti per l'inferitivo e l'inferitivo devono portare anche... se non è niente, se vuoi dire tra le due chiudere delle partite che si deve fare con un posto. Se c'è bene, se non ci vuoi riuscire a comunicare questo tipo di calcio, perché se vogliamo fare, è diventato aggressivo e più facile, perché c'è anche il posto che era un'altra parte che aveva un battito delle direzioni, di certo che lo sarebbe stato di buon potere, con noi comunque anche le facciate in casa è un buon fatto, ho fatto anche rispettare il mando giusto, se è un'altra parte che fosse un po' in cattivella, in più di relazione, da comunque... e abbiamo fatto anche diverse stelle logiche. E' molto diversi belli anche gli avversari, ma come ci fanno anche le poche occasioni che abbiamo composto, quindi alla fine con un po' di riflessione, ma come mi sono sempre saluto a fare bene, le cose che dobbiamo fare fino a non c'è molto più forte. C'è un'ascensione di vita, un'espasione di ragazzo divinato per cercare di partire di una festa interessante in Serie 2. I miei obiettivi sono per visitare i giorni a poche più possibili nella squadra, raggiungerò le obiettivi di una squadra, che non rimane la traversa. E poi, insomma, un obiettivo personale, quindi devi portare di fare il meglio possibile e fare il meglio possibile. Come ti ho detto, che sono molti squadri, perché la migliore è stata una squadra che non è stato iniziato, comunque non è stato iniziato. E' una squadra, con tutto il mio organico, per fare la squadra, quindi sicuramente è un campionato di posto della lente, sempre credo. E' una squadra per tutte le feste hanno un passaggio di con la fase di raccogliamento che è stato iniziato un po', e sicuramente poi quando poi i campionisti arrivavano però comunque un campionato che può arrivare tuttoressa, quindi bisogna di guardare il partito dove si è finito, perché non è un'attività, magari per l'attività, che c'è più di più di attività, ma di me sarà molto indietro, intanto, se non è un altro, quindi gli hanno guardato il partito di un partito che è chiaro che non è trappato da uno di questo partito, insomma non è un'esperienza per finire, comunque è un'attività di partito che lo sviluppiamo anche di una delle parti. Certo a sicurirti, comunque, io l'ho sempre fatto il cerchio americano, il più opportunito anche ad un'attività, comunque con le parti del progetto che è bellissima, cioè quella che ha subito una linta supporta, quindi questo è un'attività di sviluppare l'attore. Il nostro obiettivo è quello di imporre ogni progetto dell'avversario, che è più espressibile dall'avversario, quindi di ricerca del fine della quale è più possibile sviluppare l'azione centralmente in base all'avversario, dove si concebe di più o centralmente più nuove sugli esterni. Quindi questo è l'ottima cosa che è interessante, però l'attività è sempre quello di imporre un altro gioco, se non è più possibile ciò che fa. Allora, quello di fare, secondo me, per i passi anni che ho messo il ruolo, ho giocato diverse volte, ho giocato sempre sempre fatto il posto di sinistra, devo dire che mi trovo molto bene con il ruolo, forse per i passi che si deve rispettare un po' di più nella legge operazione. Mi trovo molto bene anche per il titolo inteso dove dobbiamo fare, perché non si tratta di questo simbolo con il titolo stand davanti, quindi mi trovo molto bene con questo tipo di gioco. è un'attività che ha improntato, è semplice di dire tante volte, campionati di A2, ma non è una cosa che fa, ma non ci sono veramente chiate importanze, che questa deve venire improntare a Serie A, quindi è un campionato torto. Un gruppo nel quale, con una grande importanza, puntano, giustandito, puntano a dei posti per arrivare a questa stessa Serie A. In Perugia arriva un po' meno, in ogni partita più in inglese, preparando bene la partita per rimanere sul test e preparando animo riuscire per far rimettere in difficoltà. Dio dico, i loro che hanno un po' più in fine una partita, che hanno un po' più lavorare, se il paese in questo gioco è pronto. Ci sono diversi, diversi, diversi quali nella squadra, che questi giocatori comunque in persettiva ti facciano, fino a due ore, bisogna andare a loro, quindi ci sono diversi, ci sono i giorni per i giorni, che hanno un po' più in realtà quello di fare ... anche se ne sono i fanci di squadra, anche se ne sono cattivi, ci sono un po' più un momento di mentalità giusta, un'attività giusta di, mentre nel palito ci troviamo più a fare, dove fare un mister tipo acqua. Quindi, sicuramente non avevano un po' più per migliorare i miglioramenti anche altri attori, anche l'obiettivo è sempre quello di fare i miei risultati e formare un gruppo che deve arrivare sempre a vita di tutti questi anni. Inizio, come ho detto anche prima, questo finale è stata più un'importante traccia che ha detto che è strontata rispetto a una finita l'obiettivo. Questo è un'interdita che mi ha fatto riuscire a tutti i miei risultati. Inoltre, comunque, era un graficamente risultato, in realtà, per i miei risultati, per i miei risultati di tutti i miei risultati. Inoltre, abbiamo finito una partita anche una quantità di ascoli e anche in Francia comunque si è affrontato nel modo giusto e poco di fiducia dai più grandi. Così come tutte le due partite, quindi sono contenti. Nel lato, c'è un po' di amore che per alcuni partiti in me li potevano sapagliare di più per quello che abbiamo creato e per quello che si otteneva fatta. Però, comunque, di rimasto anche contenti, guarda, ridicare un po' di amore e pensare le protezioni che non è stato fatte da qui c'era l'inizio. Cioè, l'inizio è stata una cosa che non aveva bisogno di ammettere un po' di ammettere un po' di ammettere sulla scuola. Però, sinceramente, non mi avevo lasciato a risultare l'Umbria e avevo un po' di ammettere un po' di ammettere. Però, comunque, ci sono stati, in tutto l'Umbria, ci sono stati sicuramente reali, con un po' di ammettere 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 un po' di ammettere. Occhè, quello che viene, c'è sempre qualcosa di fare da discorre anche tra le grado di occhi, Sicuramente è un accorso di un'attore sfond� a guardare più importanti. E' lo scuola dei tutti, sicuramente, diversi da nostri. E' una squadra, ogni squadra forte. Il confetto che apri, mi verrà anche la sottolazione di l'Umbria per venire, perché sicuramente laichetta di ammettere, qui deve essere sempre quella, ma noi tutti i miei settimane, non rivedremo prontiare questa vita, no? Sicuramente fino ad oggi, non so, mi chiedevo per un momento definitivo direi l'ossi, non posso chiedere che sia più un tanto, ma proprio quando l'intervento è di più, ma l'intervento è di più, ma l'intervento è di più, l'intervento è di più, l'intervento è di più. L'intervento è un po' che non deve essere leggero, ma è una cosa che è pericurato, quindi dovremmo fare una certa questione, le mani più concentrati dal primo hanno molto spintesimo per poter determinare la loro qualità di costituzione. Inoltre, questo punto di vista è il momento, perché comunque si può partire in un'idea tremore che ogni potenza non è la loro situazione, ma si può avanzare, mentre anche il punto di vista è il momento, perché comunque si può partire in un'idea tremore, che ogni potenza non è la loro situazione, ma si può avanzare, mentre anche il punto di vista è il momento, che non è la loro situazione, ma non è la loro situazione, ma non è la loro situazione, ma comunque abbiamo un attacco forte, anche se non è la loro situazione di qualità, quindi sono un problema, non è la loro situazione, ma anche se non è la loro situazione, ma è la loro situazione, ma sono un attacco di tre, sono un attacco molto male. Io continuo a fatto la parola che guardiamo i giorni, io ho dato il punto di vista, non solo a livello di gioco, ma anche quindi si può finire tutti i tiri, quindi sono in difficoltà di avversare, ma per essere un momento di ballarti, facciamo due tire e due gol nel partito. Grazie a tutti.